I colori della giostra riapre al pubblico sabato 1 maggio. Il percorso espositivo dedicato al Saracino, che si trova al piano terra di Palazzo Cavallo, tornerà infatti ad accogliere i visitatori come previsto in seguito al rientro della regione toscana in zona gialla. L'esposizione, la cui gestione è affidata alla Fondazione Arezzo in Tour, sarà aperta inizialmente soltanto il sabato e la domenica nei weekend di 1 e 2 maggio, giorni in cui il Prato tra l'altro tornerà ad ospitare la fiera e 8 e 9, con orario continuato 10-18. Dal 15 maggio la struttura poi sarà aperta integralmente il sabato e la domenica, sempre dalle 10 alle 18 e dalle 14 alle 18 invece durante la settimana, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì. Il percorso resterà chiuso martedì e mercoledì. Come previsto dal decreto legge che disciplina le riaperture, infine durante il fine settimana sarà necessario prenotare la visita con almeno un giorno di anticipo.